E l'ho ritratto ancora, fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali. Ciao a tutti, questa sono io, Gemma, 46 anni fa. Ero una bimba molto felice, mia mamma diceva che non piangevo mai. Qui avevo 4 anni, giocavo molto con mia sorella Marina e uscevamo a passeggiare con i nostri genitori. Avevo 18 anni, la prima volta che sono andata a Londra. Ho visitato il Madame Tussaud e ho salutato Luciano Pavarotti, ma non mi ha detto niente. Io avevo 8 mesi, il mio primo vestitino per lunedì di Pasqua. Con una amichetta mangiavamo l'uva nella vendemmia in paese. Nel palazzo della Maddalena a Santander, eravamo in vacanza. Ciao, mi chiamo Mija, sono ragazzo sloveno, ho 42 anni, ma in questa foto ero un bebè 41 anni fa. Alla seguente foto festeggiavo il compleanno dei 3 anni. Come si può vedere, ero un bambino biondo, ma in questa foto ero un adolescente, facevo una gita in Croazia. Ciao, sono Anna. In questa fotografia avevo due anni e mia mamma mi stava facendo il bagno. Nella seconda fotografia, mia sorella e io eravamo in un parco in Francia. Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino. Procedendo in avanti, senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta, che non finisce mai, neanche se te ne vai. E lo ridico ancora, per impararlo a memoria, in questi giorni impazziti, di polvere e di gloria. E lo ritratuo ancora, fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali.